Prima ovviamente lui che è più esperto e preparato Sì però... Già mi esce la sfiuma dal piede, il piede è sudato e esce da questi pori Sì però non facciamo gli anziani, vado E non lo so, io voglio la scaletta, cioè così è... No dai, Giosuè, andiamo Mi sudano i piedi, capito? Andiamo E quello è il problema Non cadere Giosuè scivola Dai Tranquillo che c'è il fondale Dai un minuto per buttarti Forse che forse ci siamo Vada 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 Senza pensarci due volte Vada Ok a posto e ci è riuscito Grazie a tutti 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 Grazie a tutti